Amici, parliamo di cose serie. Non... Stavo dicendo. Non venite a dire che ogni volta che guardate una serie non trovate un personaggio preferito. O perlomeno qualcuno che vi assomigli. Quello che quando vedete come si comporta dite Sono proprio io. Oggi vi parlo esattamente di questa serie. Uscita il 18 maggio è già l'ho finita, ma questi sono altri discorsi. E se avete seguito le mie storie, io li ho anche conosciuti dal vivo. Ma detto ciò, c'è un personaggio, una persona, Che caratterialmente sono letteralmente io? Lidia. Vi dico solo un aggettivo. Perfezionista. Quando ho visto come si comportava nella serie, ho detto Vabbè, allora sono normale. Non sono l'unica. Non si può permettere di sbagliare niente. Perché se qualcuno la vede sbagliare, sono guai. Deve essere tutto perfetto. Nessuno deve avere niente da andarle contro. Niente. Fino a che Uno non si rende conto che in realtà è normale sbagliare. Tante volte me lo devo ricordare io adesso. Figuriamoci lei che ha 12 anni nella serie. Ecco, ho rovinato tutto. Classica frase di una persona tragica. Io. Sono curiosa di sapere in quale personaggio più vi identificate. E ovviamente se vi è piaciuta la serie.